Bellissimo saluto di prima, siamo giunti all'ultima parte dei 30 pacchetti, gli ultimi 5 di Jungle, ma dobbiamo recuperare 5 pacchetti, su 5 pacchetti ci è uscito solo questo side Sto prendendo Scusami Sassami Sassati Io ho subito fanciato Non ho capito, però non lo faccio apposta 41 secondi No, così te la faccio Non è vero Non ho capito Rhydon Venonat Parasake Parasake Odish Bloom Manky Exeggit Premip E' la holo Pinsir Questo non c'è Oh, bellissimo Ok, facciamo ovviamente Guarda qua che colori che c'ha No, è bellissimo Questo è bellissimo Questo marrone No, qui? Che marrone vuoi essere rosso? Beh, in brusse Ah 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 E abbiamo E abbiamo Monkey Nidoran Butterfly Pikachu Rydon Rapidash Goldil Gigli Lof Fero E la holo eh Clayfable Questa non c'è uscita, giusto? Questo è bello Cosa è? Che rosa Quella è bellissima Questa non c'è uscita no no non ci uscite questo nuovo bello 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 vai hai visto fatto presto vai amo e stai recuperando aprivi è una corsa contro il tempo posso non attaccare eh amo se no si ma c'è un'altra ricordati da ne abbiamo aperte 20 ricordati perché tu ti impegni te lo fai guarda che quello viene all'improvviso non lo vede in me oh taurus ci serve bello 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 dai una bella holla ho fatto un bellissimo pacchetto no snorlax l'abbiamo già è bellissimo questa carta è stupenda da vedere l'ultimo mio pacchetto no spagatrice prima poi finisco testetta dovrebbe esistere un pozzo dove tu putti il secchio e ti scuole i pacchetti putti il secchio puttiamo il secchio jigglypuff bello 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 no lo lascio in là bello paura eh te li butta qua quello che mi viene il pozzo e che è che sei persicchio ecco se hai chiuso a te io non c'ho le unghie no è l'olografico eh nooo tutto sto calcino no che schifo poi c'è uscito questo che ci serve perchè ti ho parlato del secchio perciò guarda che comunque sa che buon'impressione guarda che le muschile dal secchio adesso è un po' si invagli ah certo c'è una cosa da torno faccio una cosa dammi attimo la oh si è rossa però ho fatto presto relativamente ragazzi effetti dammi la l'olografica con la vita vabbè non fa niente che l'ho vista non mi piace ciò che mi vanno nooo vennuat cane riven no rabbi far gold best pet seeking fight nooo nastro mannaggia mannaggia va due l'olografico sono usciti vabbè ok mi fa ripigli si facciamo un piccolo ripigli ha due snorlax vabbè spero che quest'idea dei 30 pacchetti vi sia piaciuto un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video